Ultimi mesi di mandato per il Consiglio regionale toscano in vista delle elezioni del prossimo marzo a fare il punto su un attunno caldissimo in aula per i tanti provvedimenti in approvazione è il capogruppo del Partito Democratico Ivan Ferrucci. La prima scadenza è la riforma della legge elettorale toscana in agenda per le sedute del 9 e 10 settembre. Costruita su un accordo fra PD e Forza Italia, la riforma è contestata da una parte della maggioranza. A chi gli chiede se si aspetta sorprese Ferrucci risponde. Penso di no, che non ci siano sorprese anche perché nella discussione che abbiamo fatto fino ad oggi ho rilevato anche posizioni diversificate ma mai che nessuno abbia menzionato il fatto che la legge elettorale nuova non ci debba essere. Ma entro la fine del mese il Consiglio si riunirà anche il 22 e il 30 e subito dopo andranno in scena il nuovo piano sanitario regionale e poi il piano ambientale energetico e la legge urbanistica. E proprio sul piano paesaggistico Ferrucci ritiene che possono sorgere le principali difficoltà. Ma un altro compito da portare a termine è la riorganizzazione dell'attività del Consiglio alla luce della riduzione dei consiglieri da 55 a 40 e alla riforma del titolo quinto. Se c'è il Senato delle Regioni alcuni consiglieri non solo saranno impegnati nelle commissioni dell'Assemblea ma anche nel Senato nazionale. Fra gli altri provvedimenti di rilievo le nuove leggi sulla formazione professionale, le attività sportive e il sostegno alle agenzie della Casa.